Ciao! Oggi facciamo le colpine di pane! Allora mettiamo, Michele mette il lievito Facciamo che lo sbricioliamo così facciamo prima Metti l'acqua, ma la piattaforma Ora mettete l'acqua Aspetta, aspetta E mescoliamo con il cucchiaino E mescoliamo E maio! E maio! Facciamo sciogliere il lievito Adesso Marti mette la farina di semola E Michele mette l'olio Grazie! Ok, adesso mescoliamo E il pane? E il pane, sì Adesso ci mettiamo anche, quando è un po' mescolato, ci mettiamo anche il sale Ok E mi accogliamo Sì, che bello! Allora, il pane così deve diventare compatto Dobbiamo con la pellicola E lasciamo lievitare due ore Con il nostro pasto lievitato Adesso tagliamo con questo qua, girato così Dei pezzettini E li pesiamo da 100 grammi Allora, adesso facciamo Prendiamo una pallina Ti faccio prima vedere, dopo la fai tu Marti La rotoliamo un pochino così Prendiamo insieme così Così, così Poi tagliamo Aspetta, aspetta, aspetta Tagliamo la testa Che questa sarà la testa della colombina La mettiamo qua da parte Con questa qua Che è il corpo Adesso facciamo Guarda Lo annodiamo Lo voglio fare io Ti faccio prima vedere E poi lo infiliamo qua Ok? Sì Poi, guarda Qua schiacciamo Questa qua è la coda Sì Qua bagniamo con un pochino Aspetta, aspetta Un pochino di acqua E gli attacchi la testa Fai la pallina tonda Io Lì, l'attacchi lì Brava Qua gli facciamo il becco Così Lo schiacciamo un pochino Lo allunghiamo Perché? È la colombina Poi riprendiamo Due granelli di pepe E gli mettiamo gli occhietti Uno lì Vai, metti quest'altro Non metti Mi chiede l'altro occhio E poi dopo Qua nella coda La spingiamo un po' La appiattiamo Poi facciamo Dei tagliettini Così Così Uno Due Tre Quattro E questa è fatta Adesso facciamo le altre Sì, ma io la faccio una da sola Così Sì, bravo E due E due Abbiamo schiacciato la testa Anche sta con un via Mamma Quattro Tre occhi Abbiamo detto No, bastano due Poi quando le abbiamo fatte tutte Le mettiamo nella teglia Le lasciamo lievitare Anche le abbiamo fatte tutte Le dobbiamo fare Però dopo Le lasciamo lievitare Un'altra ora Non mi piace Bellissima Bellissima Che cos'è questa? È una Appa Fila La colomba Appa Allora Dopo che è passata un'ora Le spennelliamo con l'acqua E mettiamo i semini Poi le mettiamo in forma a 180 gradi per circa 30 minuti Ed ecco le nostre colombine Morbide E Morbide E E Assaggiale Nelle La cosa più toccante Buona Guarda Apriamola Vediamo come è lì dentro Guarda com'è morbido Senti Vuoi aprire anche la mia Vuoi aprire anche la tua? Ecco qua Mangi il pancino Vai Com'è? Buona È buona bimbi È buona bimbi Salutiamo tutti bimbi Ciao Ciao Alla prossima Dieta Buona bimbi Buona bimbi Buona bimbi Buona bimbi Buona bimbi Grazie.